Musica Io mi chiamo Emilio Bianchi Sono nato a Villa Palelunga, un paesino di montagna dell'Abruzzo E da lì partimmo nel luglio del 1969 Alla volta del famoso Acquedotto Felice Che noi, dico famoso perché già al paese Tornavano d'estate spesso gente che abitava all'Acquedotto Felice E quindi io li sentivo che raccontavano dell'Acquedotto Felice Non parlavano mai di baracche poi, chiaramente Però la parola Acquedotto Felice era una parola Diciamo che d'estate soprattutto si sentiva con il parlare romanesco Dei ragazzi soprattutto che venivano da Roma Noi li chiamavamo i Romani Già all'inizio del 1969 Mia zia che già abitava all'Acquedotto Felice Convinse mia madre ad acquistare una casa Così la chiamò Una casa all'Acquedotto Felice E mi ricordo pure che sarebbe venuta a costare 250.000 lire di quel tempo 250.000 lire e mia madre che aveva voglia Lei stessa non tanto pensando a noi, al nostro futuro Ma aveva bisogno proprio lei di uscire fuori dal paese Questo lo so, me lo raccontò mia madre Si sentiva troppo stretta nel paese Dice andiamo a Roma Nel luglio del 1969 partimmo prendendo prima la Corriera Che ci portò alla stazione dei treni ad Avezzano E da Avezzano poi con il treno arrivamo alla stazione Termini Per me fu un impatto incredibile arrivare alla stazione Termini Vedere fiumi di gente Io mi sentivo effettivamente spaesato Però nello stesso tempo ero anche preso da questo mondo diverso Che avevo visto e accennato un po' in televisione Nella televisione del bianco e nero di quei tempi E quindi pure io pensavo Sto in città pure io Pure io sono adesso uno di Roma Un cittadino Il fatto è che salimmo sempre aiutati dalla zia che faceva da nostra guida Prendemmo il famoso T2 Che ci portò, diciamo, dopo un lungo viaggio in città E qui questo veramente, questo fu un viaggio lunghissimo Perché anche in quel tempo, nel 1969 A Roma c'era il traffico Ma tantissimo traffico Che poi mi ricordo che quel giorno faceva caldo E io guardavo L'apertura dell'autobus Per vedere Quasi per prendere aria E me lo ricordo benissimo E vedevo scorrere immagini di palazzi belli Insomma, si attraversava Piazza Vittorio Poi si arrivò, insomma, alla Porta Furba E questo viaggio forse durò più di un'ora Ma a me sembrò interminabile Uno perché faceva caldo Due perché non vedevo l'ora di arrivare pure alla casa nostra Casa nostra E mi ricordo che dopo un po' Mia zia ci disse Dai, venite avanti perché dobbiamo scendere Scendemmo all'ultima fermata di via Selinunte Vabbè, io chiesi a mia zia Ma zia Perché avevo visto i palazzi Avevo guardato i palazzi Immaginavo che sarei andato in uno di questi palazzi Lei mi disse No, no, casa nostra sta più avanti Casa vostra, più avanti Il fatto è che attraversammo L'ultima strada Via del Quadraro L'ultima strada asfaltata E ci mettemmo diciamo in un biottolo Di strada non asfaltata chiaramente In mezzo alla polvere Era d'estate nel mese di luglio Quindi potete immaginare quanta polvere ci fosse lì Si vedevano solo canni randaggi Cumuli di terra Con, li chiamerei quasi relitti della Roma antica E poi ad un certo punto si cominciò ad intravedere l'acquedotto Come struttura E ci avvicinavamo ancora di più E praticamente Addossate a questo enorme muro Che era l'acquedotto felice C'erano addossate delle casupole Che sembravano quasi Fossero quello del presepe Ecco, è veramente La prima immagine fu proprio quella del presepe E noi continuavamo a camminare Eravamo togliendo mio fratello e mia sorella Che erano più grandi di me Che già stavano Erano arrivati all'acquedotto per primi Perché erano venuti a Roma per lavorare Mia sorella, quella più grande Lavorava a pulire i cinema E mio fratello invece era stato Diciamo assunto In uno sfascia carrozze Cioè un enorme Presso un'azienda Che demoliva le macchine Noi chiamavamo gli sfascia carrozze Così si chiamavano in quel tempo Fatto è che arrivamo In prossimità di queste baracche E io mi ricordo solo Che c'era tutto silenzio Dietro di noi la città era scomparsa Noi ci trovavamo praticamente In mezzo al Diciamo quasi Direi quasi alla natura Ritorniamo un po' alla natura Lasciandoci dietro i palazzoni di cemento E in mezzo a queste gasupole Noi camminando Ogni tanto si affacciava qualcuno Incuriosito Perché noi eravamo quasi come Eravamo un bel po' Cinque figli No, sei figli Perché togliendo mia sorella E mio fratello Che già stavano all'acquedotto Sei figli Con mia madre E mia zia Camminavamo verso Il numero Settecento Settecentocinque No, settecentoquattro Dell'acquedotto Dove poi Avremmo trovato La nostra casa Che casa non era Ovviamente Era una delle tante baracche Che comunque Mia zia diceva sempre Ma no, ma la baracca nostra La baracca che avete comprato Voi È la più bella È una delle più belle Dell'acquedotto felice Vabbè Quando arrivamo Tutta questa grande bellezza Non ce l'aveva Non si apriva bene Non si chiudeva Insomma Vabbè E poi ci ritrovavamo Dentro Questa Quella che doveva essere La nostra casa Dove c'era solo Una stanza Interna Diciamo Appena Oltrepassato La porta D'ingresso Poi Avanti Proprio Di fronte Alla porta D'ingresso C'era l'entrata Di un'altra stanza Che era Praticamente Ricavata Sotto Avevano occupato L'arco Uno degli archi Dell'acquedotto felice E lì Era stata fatta Una camera E in quella camera Dormivamo in quattro Praticamente Mi ricordo Che in un letto matrimoniale C'eravamo io E gli altri due fratelli Uno di questi fratelli Dormiva da capo Diciamo noi Nel senso che Noi davamo i piedi a lui E lui li dava a noi E in un'altra stanza Invece dormiva Tutto il resto Della famiglia Era un po' più grandicella Quell'altra stanza Questo insomma Fu l'impatto mio E potete immaginare Insomma Avevo lasciato il paese Avevo lasciato un paese Che poi era Era un paradiso Per me Io ci stavo benissimo Non è che eravamo Che dovevamo scappare Dalla guerra Dalle bombe Dalla miseria Diciamo Cioè da un luogo E da una condizione Di miserabili Ecco Forse questa parola È un po' troppo grossa Ma comunque Non stavamo Nella miseria Avevamo solo bisogno Di lasciare il paese Perché non dava La possibilità Comunque lavorativa Tornando adesso A parlare seriamente Insomma In quel tempo Il problema del lavoro Esisteva E come Mio padre era stato Per tantissimi anni In Germania E quindi non ci vedeva Neppure crescere Molti di noi Non li ha visti Neppure crescere Quindi pure lui Se ne tornò Al paese Dalla Germania E lui D'accordo con mamma Disse va bene Qui non posso Non c'è più lavoro Vado a lavorare a Roma Pure io E così fu Ma lui non venne subito Con noi Perché aveva acquistato In quel tempo Aveva acquistato Una motosega E quindi aveva preso impegno Con una detta Tagliare la legna Tagliare gli alberi E quindi farli a pezzi Perché poi La gente del paese Questa legna La acquistava Per l'inverno Questo era Il lavoro Che faceva mio padre Quando I primi giorni All'Acquedotto Felice Ecco Ritornando adesso Un po' A quello che fu Il mio impatto Con l'Acquedotto Felice Beh Mi ricordo che Quasi non respiravo Non respiravo Non parlavo E pensavo Pensavo Continuamente A quello che avevo lasciato Cioè Al mondo Fatto di amici Di passeggiate Che ne sono In una pineta Vicino Vicino al paese Insomma Tutte le cose belle Che avevo lasciato Al paese Gli amici soprattutto Perché in quel tempo Io avevo 15 anni Potete immaginare Insomma Quanto era importante Per me L'amicizia E va bene Passai La prima estate Cioè La rimanente Diciamo Di quell'estate Andando a lavorare Pure io Presso una fabbrica Che faceva Lavori Inferriate Eccetera Durante Durante una domenica Conobbi Me lo ricordo bene Conobbi Una Una suora Che passava Ogni tanto Di là Forse Andava a fare Qualche visita Qualche persona Che aveva bisogno Mi vide Lì davanti Davanti alla baracca E mi disse Ma tu chi sei Non ti ho mai visto Allora io mi presentai Mi disse Che fai Scolasticamente Vuole sapere Insomma Se studiavo Ci ha detto Sì Io ho frequentato Il primo anno Dell'istituto magistrale Voglio fare il maestro E quest'anno Mi sono iscritto Al Margherita di Savoia Che sta A Piazzarri di Roma E frequenterò Il secondo Magistrale E lei disse Bravo Bravo E dopo Che vorrai fare? Beh io voglio fare il maestro Mi interessa anche Studiare psicologia Però volevo fare il maestro E allora lei mi disse Lo sai che qui All'acquedotto C'è un prete Che fa scuola Ai bambini Qui del baraccamento Perché non ci vai pure tu? Io non risposi Subito Sì E neppure no Però mi rimase Questa Diciamo Questa Questa informazione Di questa suora E Poi Passò ancora un po' di tempo Non tantissimo Perché io poi Quei giorni li vivevo Soprattutto il primo mese Di quel periodo Lo vissi intensamente Ma proprio intensamente Perché ero Non avevo Diciamo Niente di cui Per distrarmi E quindi Vivevo ogni cosa Che succedeva lì La vivevo intensamente E un giorno Arrivarono All'ingresso di casa mia Io ormai La chiamavo casa mia Giustamente Arrivarono Dei ragazzetti Più piccoli Di me Che Praticamente Mi Davano Distribuivano Baracca Dopo baracca Un loro giornalino Ciclostilato Con sopra scritto Scuola 725 A me capitò Proprio Uno di queste giornaline Che era Parecchie pagine Contenevo Ho detto Pazza quante pagine Me lo lessi tutto Perché C'era la lettera Che loro avevano scritto Al sindaco di Roma Io la lessi Non dico tutto Ad un fiato Ma Comunque Velocemente Perché il linguaggio Era molto Molto Semplice Anzi In un certo senso Lo sentivo mio Molto mio Come mio Per esempio Ho sentito Subito Il primo libro Che mi fece leggere Don Roberto Quando andai Nella sua scuola La scuola 725 Fu Fontamara Il libro di Silone Lì Io Quando Cominciai a leggere Questo libro Ho detto Ma questo è proprio Il linguaggio mio Cioè Effettivamente Poi Silone È nato vicino Al paese nostro E racconta Di storie Della gente Del paese Del paese Mio pure Tornando adesso A Don Roberto Il fatto è che Io lessi Questa lettera Al sindaco Che mi colpì Tantissimo Perché in fondo In fondo Pure io Ero già stato formato Diciamo Da miei genitori O comunque Avevo ricevuto Una formazione Che mi dava Come ti posso dire La forza Per Come dire Anche per Ribellarmi No Contro le ingiustizie E in questa lettera Si parlava Di ingiustizia E quindi Io mi sentivo Un po' Un po' Rivoluzionario E il fatto è Che decisi Poi Di andare In questa scuola Fui forse Il primo Che Che non Che non Venne preso Da Don Roberto O mandato Dai genitori In quella scuola Come accade Le prime Le prime volte Che Don Roberto Mise su Questa scuola In mezzo alle baracche Io andai lì Di mia spontanea volontà E mi ricordo Che Don Roberto Mi accolse Con una dolcezza Incredibile Potrei dire Quasi che Mi innamorai Subito di lui Perché Mi fece Sentire subito Proprio A mio agio Nel momento In cui Io mi ero presentato Che volevo fare Il maestro Capirai Lui aveva trovato Effettivamente La persona Diciamo Un ragazzo Veramente Che lui Poteva Aiutare Ecco Lui voleva Poi mi ha sempre aiutato Fino alla fine Fino alla fine Fino all'ultimo Dei suoi giorni In questa scuola Io mi ci trovai Veramente bene I miei amici Che Magari Che hanno raccontato Pure di questa esperienza Qualcuno di loro Avrà detto Che comunque Era una scuola Dura In un certo senso Perché Don Roberto Era molto severo Innanzitutto Severo con se stesso Ma Anche con noi Severo Non vuol dire Però Che usava La cattiveria Severo Nel senso Che ci voleva guidare E ci diceva Insomma Le cose Di cui Noi avevamo bisogno In quel momento E di che cosa Avevamo bisogno Noi di quel momento Avevamo bisogno Soprattutto Di imparare A parlare Innanzitutto Di imparare a parlare Di leggere Di Di avere a disposizione Lo strumento Della lingua Per poter poi Noi difenderci Da soli Capito Perché Don Roberto Diceva È inutile Che sono gli altri A parlare Di voi Ma Dovete essere voi A parlare A parlare di voi E a ribellarvi A farvi capire Insomma Questa era una scuola Veramente speciale Io lo posso dire Insomma Avendo insegnato Per 40 anni Posso dire Insomma Che la differenza Che ci può essere Tra una scuola Dello Stato Anche le scuole private Ovviamente E quella scuola Particolarissima Un po' Seguendo La strada Di Don Milani E non solo E soprattutto Don Roberto Voleva Che noi Che noi Non perdessimo Tempo Ecco Don Roberto Era convintissimo Del fatto Che non si Noi Noi proprio Essendo Diciamo Considerati Gli ultimi Cioè Bisognosi Gli emarginati Noi avevamo bisogno Più degli altri Del tempo Dello studio E dovevamo studiare E devo dire Che è valsa Veramente la pena Eguisticamente Io ho preso Tantissimo Da Don Roberto Ho rubato Direi anche Che ho rubato Tra virgolette Rubato Anche il mestiere Di fare il maestro Il modo Di fare il maestro Io un po' Non dico Che l'ho imitato Però Il mio modo Di approcciarmi Con i ragazzi Era un po' Il modo Di È stato un po' Il modo Di Don Roberto Mi piaceva molto Quando Quando faceva Le lezioni Particolarissime Nel senso Che lui partiva Da un Da un articolo Preso da un giornale Un giornale Qualsiasi Non è che dovevamo Seguire per forza No 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 Non è vero Quelle di destra Non c'erano Capito Diciamo Quello più Diciamo di centro Era l'avvenire L'avvenire Insomma Il giornale Del Del Vaticano Diciamolo francamente Insomma No Liberamente Poi avevamo Anche il giorno Avevamo Seguivamo Paese sera L'unità Ci capitava La domenica Soprattutto Quindi da questi giornali E anche Mi ricordo Temoaniage Chrétien Era una rivista Che arrivava Dalla Francia E a noi Ce la inviavano Gratis Così Disse Don Roberto Mi disse Don Roberto No Questo non la paghiamo Ce la mandano Io Grazie a quel A quella rivista Imparai il francese Veramente Insomma Don Roberto Mi diceva No Leggi questo Leggi qua Perché Don Roberto Ci teneva tantissimo Che noi imparassimo Anche delle lingue Straniere Non a caso Poi Durante Una Un'estate Ci mandò A me E da altri due E ci mandò Anche a lavorare In Francia No Ci inviò Ci mandò In Svizzera A Ginevra Vabbè Ma questa è un'altra storia Ritornando A Don Roberto Al suo modo Di fare Di fare scuola Ecco Ricordo Lo ricordo benissimo Noi tutti seduti Intorno a questo tavolo Enorme Tipo Bisogna immaginare Che erano Due tavoli Di quelli lunghi Che si usano Durante Che ne so Immaginiamo anche Le feste Dell'unità Ecco Dove Dove si mangia Dentro Lungo questi tavoli Erano due tavoli Messe insieme E noi Intorno A questo tavolo Poi c'era Su una parete C'era una lavagna Nera In quel tempo Solo nere c'erano Perché adesso Ci sono lavagne luminose Insomma Lavagne bianche Eccetera Ma in quel tempo C'era questa lavagna E sopra Sopra il muro Sopra questa lavagna C'era scritto Avevo allevato Un figlio buono E l'esercito Me l'ha trasformato In un assassino Era la madre Che scriveva questo Riferendosi al figlio Che aveva Partecipato Mi sembra Allo sterminio Di un villaggio In Vietnam Quindi E Don Roberto Allora Come dicevo prima Prendeva spunto Da un articolo E poi Magari si affermava Anche su una parola Questa parola La scriveva Chiaramente In chiare lettere Sulla lavagna E dovevamo Prendere poi Anche in due tre Il dizionario Il vocabolario E leggere E capire L'uso Diciamo Il significato Di questa parola Per usarlo Magari In circostanze Anche diverse Perché la lingua italiana È fatta anche Di parole Che possono Avere significati Diversi In contesti diversi E ci insegnò Praticamente Ad avere Nel nostro Nel nostro Repertorio Tante di quelle parole Poi da poter utilizzare Nel mio caso Nel mio caso Che non era Insomma Uno studente Proprio scarso Diciamo Era uno studente Medio Volenteroso Però Insomma Non avevo Tanti stimoli Non li avevo Al paese Ma con Don Roberto Iniziai ad avere Gli stimoli Ad avere Cioè Avere Le idee Quindi Informazioni E mi ricordo Che in italiano Soprattutto Mi riferisco Ai temi Fece un salto Incredibile Perché Insomma Da quel 6 Proprio Quasi regalato Fino al primo magistrale Ad Avezzano Insomma Era arrivato Anche 8-9 Una volta Il professore Proprio perché Avevo raccontato La scuola 725 Quindi era Il mio pezzo Forte Mi disse Non ti posso Mettere 10 Perché Non si mettono I 10 Alle scuole superiori Vabbè Mi mise 8 Ma questo Non per Per vantarmi Non ho bisogno Di vantarmi Insomma No Ma per Far capire Che comunque Io Avevo Esperimentato La scuola 725 E Stavo raccogliendo I frutti I frutti Di quell'esperienza Fatta Cioè Di riflessione C'è bisogno Di riflessione C'è bisogno Di leggere Libri E Don Roberto Io non avevo mai letto libri Don Roberto Mi mise nella condizione Non mi ha A me personalmente Non mi ha mai 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 Obbligato a fare Qualche cosa Mai Era Si facevano Si sapeva che Appena arrivavo Che ne so Alle Alle 15 Del pomeriggio Io che ero più grande Dovevo aiutare i bambini più piccoli A fare i compiti Ma è ovvio Ero più grande Insieme ad un altro Era quello Avevo 15 anni Poi 16 17 Potete immaginare Insomma Già con loro Imparavo a fare Il maestro E poi Una volta finito Di fare i compiti Prima della sera Prima della parte clou Di questa scuola Tutti in silenzio Leggevamo libri A qualcuno Do Roberto Faceva fare Anche dei disegni Stavamo anche Scrivendo il libro Non tacere Quindi c'era da Laurare Però Il tempo Della lettura Ce l'avevamo Quotidianamente Quotidianamente Si leggeva Individualmente Potevamo scegliere Insomma Anche da Una bella biblioteca Aveva Personale Do Roberto Con libri bellissimi Tra l'altro Ma poi c'era anche Ancora prima Diciamo Della discussione Quindi dalla lezione Vera e propria Di Don Roberto Che riguardava Soprattutto La lingua E Partecipare Diciamo Alla vita Alla vita Del Del mondo Direi io E così Dice Don Roberto Noi dobbiamo Interessarci del mondo Dobbiamo interessarci Dei poveri Dobbiamo interessarci Di politica Tante volte Noi abbiamo letto Anche libri Tutti insieme Così potevamo Anche Potevamo avere Anche la possibilità Di imparare a leggere E a leggere Diciamo Per tutti No Un libro particolare Me lo ricordo Era Malcolm X Che raccontava Che raccontava la storia Di questo Di questo uomo nero No nero Di colore Quest'uomo Diciamo Di colore Che Insomma Che fu un ribelle Si ribellò In quel tempo E noi Leggemmo Diciamo Tutta la storia Di questo Malcolm X Malcolm X Non era il suo vero nome Era però Il nome che si diede lui Perché poi diventò Musulmano Ci parla Leggemmo Di Martin Luther King Soprattutto Del Del Sadia Grella Come si chiama Di Gandhi Ecco Gandhi era Era un personaggio Diciamo Che conoscevamo tutti Alla scuola 725 Perché insomma Era Io tuttora Lo ammiro Gandhi Storicamente Quindi Quindi Lettura Discussione Imparare Imparare A parlare Imparare A Diciamo A non aver paura Soprattutto Imparare Poi come l'abbiamo scritto Con il titolo del libro Imparare A non tacere Perché davanti alle ingiustizie Non bisogna mai tacere Capito E Don Roberto Don Roberto Non ha mai taciuto Nel senso che Lui Era molto Molto coerente Per quanto L'ho potuto Conoscere io E direi Che l'ho conosciuto Abbastanza Perché Oltre a Quattro anni Passati insieme Ma io La sera Quando era finita La scuola Dopo cena Io tornavo sempre Da lui Andavo da Un po' Vabbè Avevo 17 anni 18 anni Gero Grandicello Mi piaceva poi andare E condividere con lui Un Che ti posso dire Un tempo Direi proprio Un tempo Particolare Un po' fuori Anche dalla scuola Un tempo Quasi D'amici Certo Io e Do Roberto Non siamo stati mai Amici Amici nel senso Mi spiego bene L'amicizia per me È quando Raggiungi Quando hai L'amicizia con una persona Con la quale Hai Qualche cosa Come devo dire Da condividere Pienamente E quindi Ci si può anche Scambiare Che ne so Dei pensieri Fatti di debolezza Fatti di qualsiasi cosa Come accade tra amici No? Quando ci si racconta Quasi ci si confessa Ecco Tra me e Do Roberto Non c'era questo rapporto E mi dispiace Ma Ma non perché Do Roberto Non voleva Non ero capace io Io non ero capace Di Di entrare Dentro il suo mondo Perché non mi facevo Certe domande Che magari Mi sono fatto dopo E mi pento Però È ormai Un pentimento Vano E mi pento Cioè Di non essere entrato Un po' più Dentro di lui Per capire Che ne so La sua fede Per capire Veramente Il suo pensiero Per capire anche Soprattutto L'uomo Non il sacerdote Perché poi il sacerdote È un vestito Quando ti Dici Io sono un prete Già Ecco Se dice Che ne so Sono un falegname Chi ti si fila Capito Invece Dici Sei un sacerdote Già Anche se non vali niente Però già che Hai Diciamo La cooperatura Della grande chiesa No Sei qualcuno Capito Don Roberto Essendo pure un sacerdote Già Comunque quello Lo faceva qualcuno Capito Però poi Questo qualcuno Questo sacerdote Si era fatto Invece Lui stesso Veramente Per coerenza Si era fatto Povero Tra i poveri Ecco Io Per esempio Che non so Lo dico Francamente Non è come quelle Scusate Che uno Che ne so È omosessuale Comincia a dire No io sono omosessuale No Non è questo Voglio dire Che Come posso dire Voglio raccontarmi Per quello che sono Perché ognuno di noi Come avrei voluto Da Don Roberto Ognuno di noi Deve avere il coraggio Di tirar fuori Da dentro Il vero La verità La verità Che è fatta Di debolezza Di forza Di credo Di qualsiasi cosa Cioè Che poi Tirare fuori Queste cose Da dentro Significa poi Confrontarti con gli altri Quasi a cercare Quasi a cercare Aiuto Ma anche a dare aiuto Ecco Questo mi è mancato Con Don Roberto Cioè Questa Unione forte Ma forse Non lo so Vabbè Era destino Mi avrei tirato fuori Un po' più di cose Un po' più di Conoscenza Ecco È importante Come se io e te Siamo amici Poi alla fine Tu mi racconti Alla fine Siccome ti fidi di me Tu mi racconti Magari anche Delle cose Che possono essere Importanti No Non è Non è solo La facciata Dico questo Perché io non sono Ecco il discorso Di prima che facevo Che uno si Dice Sono fatto così No Non so Non mi viene la parola giusta Però Io non sono cattolico Non Non sono ateo Però non sono cattolico Non Non so neppure come definirmi Però Il mondo spirituale Mi interessa tantissimo Potrei dire pure Che sono buddista Ma Non lo so Non mi interessa Come discorso Non mi piace Le storielle Che ne so Che etichettano E che ti dicono Devi comportarti così Devi fare questo Esiste questo Io a tante cose Non credo E quindi Già in quel tempo Quando frequentavo La scuola 725 Io mi sono Mi sono liberato Con Don Roberto E un giorno Gli dissi Perché Perché poi Lui non è che ci confessava Quindi diciamo La funzione del sacerdote Del prete L'ha fatta poco Lui E secondo me Meglio Ma comunque Un giorno Io dissi a lui Che non ero Che non credevo Non ero un cattolico Non ero un cristiano Ecco Anche se Per la miseria Cristo era È stato Un personaggio Incredibile Il Vangelo È un I Vangeli Sono insomma Scritti incredibili Non è che uno Può contestare quello Però Non ero un praticante Non credevo Ma lui Non mi ha Lui non ha Non è che mi ha detto Guarda che sbagli Assolutamente Fino all'ultimo giorno Diciamo Della sua morte Siamo rimasti Sempre in buoni In buonissimi rapporti Ovviamente Però ecco Non Qui devo 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 Quasi Ecco Me la prendo con me stesso Perché gli ultimi tempi Don Roberto Non stava tanto bene E io Gli dissi Don Roberto Posso venirti a trovare? Qualche po' Sì Mi disse Poi con me faceva sempre Questo intercalare Sì Emidio Vieni quando vuoi Io ho bisogno di parlare Con qualcuno Invece Questo capoccione Che sono io Preso Chissà Da altre cose Magari Molto Sicuramente Molto meno Importanti Dell'idea Che avevo io Cioè L'idea L'idea mia Era quella Di Andarla a trovare spesso E di E di fare quelle domande A lui Che non avevo mai usato fare Quindi Diciamo Volevo Capire da lui Soprattutto La fede Che cos'è la fede Cioè Quelle cose forti Che cos'è la coerenza Che cos'è Che cos'è la vita Poi No? Ma non Non ci sono andato E questo Mi dispiace tantissimo Forse sarebbe stato Il libro più bello Su Don Roberto Cioè Magari Senza che lui Se ne accorgesse Perché vabbè Forse sarebbe una cosa Però si può fare Dai Se il fine è buono Mettendo da parte Machiavelli Però Se il fine Fosse stato Era sicuramente buono Ma in quel tempo Io avevo pensato Di andare da lui Fare delle domande Vivere Il quotidiano con lui E registrarlo Forse Sarebbe stato Effettivamente Il libro più bello Cioè Queste conversazioni Semplici Dove Dove L'uomo si preoccupa Che ne so Di che cosa mangiare Che cosa cucinare L'uomo si preoccupa Di quello che sta succedendo Di quello che ascolta In televisione Ecco Questo era Quello che mi è venuto A mancare Di Don Roberto Poi Per parlare di lui Ci vorrebbero Ore 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 Tu mi hai raccontato Da quando Venne Il regista Vittorio De Seta Da voi Che venne Portò anche Il soggetto La sceneggiatura Del film Che poi ha fatto Che tu hai letto Diciamo Prima che venisse Fatto il film Sì De Seta Stava preparando Una sceneggiatura Stava scrivendo Diciamo La sceneggiatura Per un film Prendendo spunto Dal libro Diario Di un maestro A Pietralata Per esempio Un'anno a Pietralata Di Bernardini Però prese Diciamo Si rifece Soprattutto A Don Roberto Si prese spunto Da questo libro Nanno a Pietralata Però siccome esisteva Una scuola Particolarissima Che era la scuola 725 De Seta Venne a trovare Don Roberto E con lui Durante le lezioni Durante Diciamo Lo stare Nel pomeriggio All'interno Di questa scuola Della 725 Veniva anche Cirino Quello che sarebbe Poi Stato L'attore principale Dello sceneggiato Diario Di un maestro Me lo ricordo Cirino Sempre messo Si metteva sempre A un angolo Osservava Tutti quanti noi E soprattutto Osservava Don Roberto Il suo modo Di gesticolare Il suo modo Di parlare Il suo modo Di fare il maestro Una sera Andando da Don Roberto Lo trovai Che parlava Con il regista De Seta Il famoso regista Poi Di banditi Orgosolo Ecco E parlava Con Don Roberto Di un film Che aveva Intenzione Di fare E che Riguardava La scuola Quindi L'educazione La scuola Il mondo Della scuola Insomma E praticamente Siccome sul tavolinetto Di Don Roberto Lui aveva Un fascicolo E diceva Qui ho scritto La sceneggiatura E' quasi pronto Tutto Allora io Gli chiesi Se potevo leggere La sceneggiatura E lui mi disse Sì 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 Io stavo in un angoletto Sopra un lettino Chiuso Che faceva anche Da divano Nella stanzetta Della casa Di Don Roberto Della baracca Di Don Roberto E mi misi a leggere Questo Questa sceneggiatura Questo copione E ad un certo punto Però ho finito Di leggerlo L'ho lessi In pochissimo tempo Perché insomma Mi prese tantissimo Però alla fine Una cosa Non mi andava bene Cioè Tutto filava liscio E gli argomenti Erano Diciamo La scuola Tutto andava bene Esclusa una cosa La storia d'amore In questa sceneggiatura Insomma Lui In questo copione C'era anche Una storia d'amore Al che Alla fine Quando Mi rese conto Che potevo parlare Con il regista Gli dissi Scusi Non mi ricordo Se gli diedi Del tu O del lei Perché In quel tempo Ma pure adesso Da bravo abruzzese Delle montagne Do del tu Facilmente E gli disse Ma Ho letto il copione Mi è piaciuto tantissimo Però Che c'entra La storia d'amore Con Con tutto ciò Che viene messo in luce Riguardo alla scuola Al modo di rapportarsi Con i ragazzi La storia Questa storia d'amore Gli dissi È fuorviante Cioè Non ha senso Lui mi ascoltò A noi Ma poi Quando è uscito Questo Sceneggiato In più puntate Effettivamente La storia d'amore Era scomparsa Avevo vinto io Questa volta Poi in quella Sanzetta Sempre di sera Da Don Roberto Arrivavano personaggi Da tutto il mondo Direte Giornalisti Che lo andavano Ad intervistare E capitò anche Due volte L'ho visto Il cardinal Poletti Che era il vicario Del Papa In quel tempo Di Paolo VI E Don Roberto Con Con questo vescovo Però sempre di notte Era di notte Era buio Nessuno lo vedeva Quasi quasi Andava Andava a trovare Don Roberto Di nascosto Poletti Però Da come ricordo io Il loro Colloquiare Era molto Tranquillo Direi quasi umano Un giorno si parlava Anche se Non so se Don Roberto Gli chiesi Gliel'aveva chiesto lui Di persona Il fatto è che io Mi ricordo Che si parlava Se Paolo VI Poteva andare All'Acquedotto Felice E lui disse No Non poteva andare Non ho capito ancora Per quale motivo Paolo VI Non poteva andare All'Acquedotto Felice Senti L'ultima cosa Ti vorrei chiedere Rispetto alle Tu ti ricordi I momenti Delle Delle occupazioni Che erano occupazioni Diciamo Più che altro Dimostrative Però Come Che cosa succedeva Come si si metteva d'accordo Come si si muoveva Me lo ricordo Avevo 17 anni Lo so Perché poi In seguito Fui denunciato Tra quelli Che avevano occupato Le case Perché avevano preso I nostri nominativi Non so Insomma Io dovevo andare In tribunale Però poi Non Essendo minorenne Fui assolto Da ogni colpa Diciamo Avevo 17 anni E la sera Sul tardi Finita la scuola Diciamo Con i bambini Con noi Ragazzi Nella baracca 725 Si riunivano I capi famiglia Delle baracche Che partecipavano Appunto In quell'occasione Per organizzare L'occupazione Delle case Ma questa occupazione Aveva solo Un fine Diciamo Per far conoscere Il problema Ma non è che Noi sapevamo benissimo Che non potevamo Rimanere Nelle case occupate Quindi ci mettiamo D'accordo Tutti quanti Come doveva accadere Il tutto Io ed altri due Con una macchina Ecco perché poi Presero la targa Di questa macchina Insomma arrivarono a me Perché uno di quelli Che stava nella macchina Disse anche Che c'ero Anch'io Insomma Per andare a vedere Quali erano le case Sfitte Libere Da andare a occupare Quindi Prendemmo Diciamo La zona Le case Da occupare E una E di notte Non mi ricordo Se erano le 10 O le 11 Di notte Addirittura Partimmo Tutti Dall'acquedotto Con Con Le macchine Sgancherate Di quel tempo Con i materassi Sopra Per andare a occupare Queste case E Mi ricordo Che non fu Neppure Tanto difficile Entrare in queste case Perché comunque All'acquedotto C'erano pure De fabbri C'erano Insomma Gente che Con le serrature Ci sapeva fare Il fatto è Che Ognuno Ognuno occupò La propria casa Io mi ricordo Insieme a mio fratello E mia sorella Perché non venne Mia madre Chiaramente Però mio padre Sì Mio padre Sì Occupammo Una casa Che aveva Il parquet Una cosa Incredibile E poi Siccome Erano Tre Quattro palazzi Che avevamo Occupato Ogni tanto Andavamo Ci chiamavano Viene Casa mia Noi Quasi Eravamo Come devo Posso dire Come se Vivessimo Veramente Una situazione Del genere Dice No Casa nostra È bella Ognuno Vantava La propria Casa Occupata C'è il parquet Per terra Poi la sera Soprattutto Quelli Insomma Più grandicelli Ne chiamerei Capi famiglia I signori Si riunivano Cambiando Casa Perché per tante Per tante notti Restammo lì Cambiavano Casa A giocare A carte Capito Domani sera Vieni a giocare A casa mia Capito A giocare A casa Insomma Quelle erano Le nostre case Però La forza Di quelle Occupazioni Stava in un fatto Che Noi sapevamo Benissimo Che quando Sarebbe arrivata La polizia Noi non dovevamo Fare cariche Non dovevamo Neppure reagire Arrivava la polizia Noi dovevamo Scendere In silenzio Dovevamo Stare In silenzio Di fatti Si sentivano Solo le voci Dei poliziotti Non le nostre Mi ricordo In quel tempo Non lo so Forse Da grande Volevo fare Il giornalista Il fotoreporter Il fotoreporter Non lo so Avevo con me Un mangianastri Per registrare Qualcosa Peccato che non avevo La macchina fotografica Ma Con questo Mangianastri Registratore Volevo registrare Qualcosa Le voci E registrai anche La sera proprio Dell'occupazione Mi ricordo E risentii C'era addirittura Uno del paese mio Che chiamava la sorella Vieni 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 Questa è casa Poi si sentiva Tutto un parlare Abruzzese Napoletano Era tutto un miscuglio Io registrai le voci Non so che fino Hanno fatto Quelle voci Ma sarebbe stato bello Riaverle Riascoltarle Capito E mi ricordo Appunto Uno del paese mio Diceva Ecco Mi ricordo Anche il nome Innocenza Innocenza Vieni Vieni qua Quasenò La occupano Gli altri C'era pure Insomma La lotta Tra di noi A occupare La casa più bella Quella più Vabbè Sai Ogni tanto Bisogna pure Pensare È come quello Che va Che ne so Non avendo i soldi Però pensando Tante cose da comprare Va col carrello Riempie il carrello Poi arrivate Lì davanti alla cassa Capito Dice Allora c'è il carrello Se ne arriva E così siamo stati noi Un po' alla Marcovaldo Tanto per capirci Poi però Le case Nelle case Ci siete andati E quello Come è stato Quel momento Cioè De lasciare L'acquedotto E Andare Beh Io posso parlare Dal mio punto di vista Ovviamente No Perché poi Qualcuno Parla anche Degli anziani Che non avevano voglia Di Lasciare l'acquedotto Perché lì Avevano Praticamente Che ne so Pure seminato L'orto Non avevano Nessuna voglia Di lasciare Diciamo Una casa La quale Magari Si erano affezionati Stavano bene Stavano bene Lì Io stesso Poi Che il primo Mese Come ho raccontato Prima L'avevo passato Quasi in apnea Ma dopo Ormai Mi ero abituato Mi ero abituato Persino A Non aver più Paura Di dire Che era un baraccato Alle scuole magistrali Capito Ma quello è un altro Un altro racconto Pensando però Alla fine Dell'acquedotto Felice Quindi alla demolizione Delle Baracche E al fatto Che noi Fummo portati Tutti Alla nuova Ostia Cioè nel quartiere Di Ostia Dove erano Armellina Aveva costruito Dei palazzi Che non dovevano Essere per i baraccati Ovviamente Ma dovevano essere Per la gente Insomma Da acquistare Soprattutto per le persone Che lavoravano Agli aeroporti Insomma All'aeroporto Mi ricordo Che quando si cominciava A parlare Che ci avrebbero date Le case Ad Ostia Beh io personalmente Ero felicissimo Ma proprio felice Felice Uno perché Dici ci portano Dove c'è il mare E io avevo Una voglia matta Di vedere il mare Di vivere il mare Quindi ero Era giovane Insomma Poi E qui bisogna dire La verità Ecco quello Il discorso Che facevo prima Perché se non ti racconti Bene Se non ti racconti Se non racconti La verità da dentro Nulla ha significato Solo chiacchiere Io ero contento Anche Lo dico qui Anche di Diciamo Di staccarmi Da Don Roberto Sembra brutto Sembra brutto Ma non è Non è una cosa brutta Perché pure i figli Hanno bisogno Di staccarsi dai genitori Perché poi Devo andare Volevo conquistare Il mondo Volevo cioè Vivere il mondo Ecco la mia conquista Il mondo Significava vivere Il mondo anche fuori Capito E quindi Quella era l'occasione Per liberarmi Da Diciamo Da Don Roberto Però Capiamoci bene Non era una liberazione Perché io l'ho sempre amato Don Roberto Ma era una liberazione Per vivere la mia vita In libertà A qualcuno A qualche intervista Che mi è stata fatta Delle volte ho detto pure Che avevo Avevo voglia di peccare Addirittura Inteso il peccato Inteso pure Il mio peccato Era la non coerenza Ecco Ma la non coerenza Era magari Invece di fare il proletario Potevo fare un po' Il borghesuccio Quello era il mio peccato No Non è che stavo pensando Che dovevo andare a rubare O che dovevo andare a fare gli scippi Con la vespetta Insomma Però ecco Vivere un po' La mia vita Anche Negli errori Facendo errori Sentire L'odore Della vita fuori Quello era il mio Grande bisogno Questo come persona Per quanto riguarda Invece Il cambio di case Tra una baracca E una casa Io direi Una casa vera Insomma Quello Fu veramente Un impatto Per me Favorevolissimo A favore Della nuova ostia A favore Cioè Di una casa Sì Pure in un palazzo Un appartamento Sì Pure quello Io mi ricordo Noi che eravamo Una famiglia numerosa A noi dietero Una casa Con Cinque stanze Addirittura Da pascià Chiaramente Case Quando ce le dietero Non c'era Non c'era niente Dentro Tutte vuote E così Erano quasi vuote Tutte le Gli altri appartamenti Dei Dei Baraccati Del Ex Baraccati Ormai diventati Ex Baraccati Dall'Acquadotto Felice Casa nostra Era piena di stanze Due bagni Chiaramente Due bagni Lo racconto sempre Ma è Per capire Il bisogno Bisogno Che avevo io Ecco Tante volte Andavo al bagno Ma non perché avevo bisogno Di andare al bagno Andavo al bagno Perché andavo ad aprire Questo un po' mi commuove Commuove a me stesso Andavo ad aprire L'acqua della vasca Perché all'Acquadotto Non avevamo Il bagno Diciamo Con la vasca Con la doccia Era Un modo Insomma L'Acquadotto Le difficoltà C'erano Per quanto riguarda L'igiene Non che noi Non ci tenevamo Ma era Comunque Era Veramente Difficoltoso Vivere L'igiene Al cento per cento All'Acquadotto Quindi lì Mi ritrovai Con tutta quest'acqua Che usciva Dalla vasca E la volevo scorrere Bella Pulita Non potete immaginare Quanti Quanti bagni Mi facevo dentro Poi mi insaponavo tutto Perché mi sembrava Che Capito Ero arrivato Ero arrivato pure io Ero quasi un signore Adesso Poi Il mare Ce l'avevamo Praticamente A duecento metri Ecco Da via Domenico Baffico Dove avevamo L'entrata Dei nostri palazzi Che ci avevano dato Erano duecento metri Poi noi dell'Acquadotto Che ci conoscevamo Dice andiamo al mare Capito Andiamo al mare Tutti quanti Facciamo il bagno Poi La maggior parte di noi Non tanto io Devo dire Ma Sentivo qualcuno Che non si era mai lavato E che diceva Ah io Non mi vado a fare la doccia Capito Cioè Sto andando a fare la doccia Doveva dirlo Capito Perché era Comunque un bisogno Un qualcosa di diverso Questo era un mondo diverso Poi Non significa migliore o peggiore Io dico sempre Che sono due mondi diversi Il mondo della Della baraccopoli Dove io ho vissuto Quegli anni Meravigliosi Anche nelle difficoltà Ma anni meravigliosi Adesso Sto parlando così Di getto Cercando di tirar fuori Dalla mia memoria Le cose successe All'Acquadotto Ma anni Sono successe tante Di cose Ma anche Mica per forza tragiche Ma anche bellissime La gente che si voleva vendere La gente che si sfotteva Quelli che da una baracca all'altra Dicevano Oh Abbaraccato Capito Eppure questo era un modo Comunque per sentirsi uniti Per Praticamente All'Acquadotto All'Acquadotto La loro vita Piena di difficoltà Capito Allora magari Si rinchiudono in se stesse E si richiudono Come fanno i bambini Quando Cercano Che ne so Un angoletto particolare Perché dice Almeno qui Mi sento padrone E così erano anche i baraccati Tanti baraccati E quando Quando è che hai cominciato a dire Cioè tu All'inizio non lo raccontavi Che stavi Non lo dicevi Che stavi Eh no Il fatto Che Che abitassi all'Acquadotto No Non lo dicevo assolutamente Perché Andando alla scuola Dall'istituto magistrale Margherita di Savoia Insomma Un istituto un po' chic Di Roma E mi vergognavo chiaramente A dire che abitavo nelle baracche Perché insomma Il mondo Il mondo Soprattutto erano donne Ragazze Il mondo Che vivevano quelle ragazze Il mio mondo Era veramente diverso Molto diverso E quindi Non Mi vergognavo Di dire abito Dicevo pure Ma perché lo devo dire Poi questi Che ne so Non so come reagiscono Ma neppure io ero pronto A dire Sono un baraccato Abito che ne so All'Acquadotto Felice In una casetta Che è più una catapecchia Che è una casa vera Insomma Però Con Don Roberto Con Don Roberto Con l'insegnamento suo Ho imparato Comunque E imparai Ad essere Appunto me stesso E a far sapere Anche agli altri Che ero Che ero un baraccato Cioè la mia condizione La feci sapere Anche Alle Ragazze Della Diciamo Della mia classe E me lo ricordo benissimo Un giorno La professoressa di matematica Aveva due ore con noi Prima che lei iniziasse A fare lezione O a interrogare Non lo so Comunque prima che lei iniziasse Io le dissi Se potevo leggere Una cosa Tutta la classe Perché era una cosa importante E lei mi disse Ci rimase un po' Ma poi siccome mi conosceva C'era un bel rapporto Tra me e lei E lei mi disse Sì, sì, vai Io mi misi in cattedra Tutte le Le mie compagne Perché ero L'unico maschio Ecco perché dico Vorrei dire la classe Però erano tutte Tutte femmine Io ero l'unico maschio Quindi Puoi immaginare Che Insomma Come la pubblicità Di quei tempi Mi sentivo Un calimero Ecco Un calimero nero Però Insomma Quel giorno Presi coraggio E lessi La lettera Al sindaco di Roma Scritta dai ragazzi Della scuola 725 Non da me Ma io l'avevo fatta mia Chiaramente Quella Come se l'avessi scritta Pure io E E poi Dissi Beh io In questa In questa Baraccopoli Ci vivo Io vivo lì La reazione Delle ragazze Fu di Fu positivissima Cioè Verso di me Comunque si rivolsero Con Con ancora più affetto Io da quel giorno Mi ero liberato Da quel giorno Quando prendevo L'autobus Non scendevo più Una fermata prima Ma scendevo Alla mia fermata L'ultima fermata Di via Selinotte Dopodiché Attraversavo Via del Quadrato Riprendevo La mia solita strada Polverosa Verso Casso Di via Selinot Di via Selinot La mia solita strada Mi ero liberato La mia solita strada